Un'opportunità per i giovani all'insegna del lavoro, del rilancio dell'economia e dello sviluppo del territorio. Con la firma del governatore Vincenzo De Luca questa mattina al complesso della Santissima Trinità, del protocollo d'intesa tra Regione Campania, Comune di Torre del Greco, Asso Coral e Tarì, si dà il via a corsi di formazione e alta specializzazione finanziati dalla Regione per sostenere l'arte della lavorazione del corallo e del cammeo. Con la firma di questo protocollo parte nuovamente il rilancio di questa città. È una bella iniziativa che prendiamo insieme con il Tarì, con Asso Coral per il rilancio della formazione nella lavorazione del corallo. Abbiamo qui una tradizione millenaria a Torre del Greco per la lavorazione del corallo e del cammeo. C'è bisogno di rilanciare queste tradizioni a livello elevato di professionalità. Con l'intesa di questa mattina noi ci prepariamo a garantire la formazione professionale come Regione per una ventina di ragazze e ragazzi che vogliono specializzarsi nell'arte della lavorazione del corallo e del cammeo ed avviamo il percorso per arrivare al riconoscimento dell'arte del corallo come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo significherebbe un lancio sul piano mondiale del corallo e della sua lavorazione. Ma il rilancio della città del corallo passa anche per altre progettualità che Regione Campania intende portare avanti. Adesso stiamo rilanciando. In alcuni campi sono aperti i cantieri e gli investimenti. Penso al tema della depurazione. Abbiamo un investimento importantissimo. Oltre 15 milioni di euro per rifare tutta l'area defoniaria a depurazione a Torre del Greco. L'obiettivo è avere il mare limpido per tutto l'anno su tutto il golfo di Napoli. Stiamo lavorando per potenziare l'ospedale di Torre. Sono in atto investimenti importanti con l'articolo 20. Andiamo a un rinnovamento generale di una struttura che è importantissima. Oggi rilanciamo l'economia del corallo. Diciamo che ormai è partita la fase di un nuovo futuro anche per Torre del Greco. Dobbiamo avere fiducia. Nel corso dell'incontro il presidente De Luca ha anche ricordato i mesi difficili dell'emergenza sanitaria e le iniziative messe in campo per sostenere le imprese e l'economia. Questa bella iniziativa che è stata seguita, promossa da Mario Casillo, da Loredana Raia specificamente, è dentro uno sforzo che stiamo facendo in Campania per rilanciare l'economia. Siamo l'unica regione che ha fatto un doppio lavoro, quello sul piano sanitario e lo abbiamo fatto credo bene. Ma siamo l'unica regione che contemporaneamente ha approvato un piano socio-economico del valore di un miliardo di euro, un miliardo di euro per dare una mano ai nostri concittadini, alle nostre imprese. Una bella mattinata caro sindaco, cara Loredana, caro Mario, caro assessore, cari tutti quanti voi. Ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo fatto in questi mesi tutto quello che era umanamente possibile, in qualche caso al di là delle nostre forze. Dobbiamo continuare così, perché abbiamo una grande responsabilità ma abbiamo anche una grandissima opportunità nelle nostre mani. Grazie a tutti, un saluto affettuoso a voi e alle vostre famiglie. Questa mattina a Torre del Greco la presenza del governatore De Luca, la firma di un protocollo per sostenere la lavorazione del Corallo e del Cammeo, un traguardo importante per quella che è la città del Corallo. Ancora una volta l'attenzione di Regione Campania si concentra sui giovani e dopo il piano per il lavoro arriva l'iniziativa del corso di formazione di alta specializzazione dedicato ai giovani fino a 35 anni che si vogliono avvicinare all'arte e alla tradizione di Torre del Greco che rappresentano le nostre eccellenze conosciute in tutto il mondo, la lavorazione artigianale del Corallo e del Cammeo per la quale e per le quali Regione Campania ha sostenuto sin da subito l'iniziativa di Asso Coral che diventa il Dominus perché rappresenta numerose aziende sul territorio che lavorano questi preziosi l'iniziativa di far diventare patrimonio immateriale dell'umanità riconosciuta dall'UNESCO quest'arte. Tutto nasce dal mare, questa è una città di mare, è una città di marinai, è una città di pescatori, il Corallo, il Cameo, le materie prime nascono dal mare, quel mare sul quale abbiamo puntato l'attenzione come Regione Campania e sono orgogliosa di registrare e di partecipare a tutti che sono partiti finalmente i lavori per il depuratore che porterà il nostro mare a diventare di nuovo balneabile anche e soprattutto nella città di Torre del Greco. Dopo la firma di questa mattina quando partiranno questi corsi? A brevissimo, dopo l'estate cominceranno le selezioni per appunto selezionare questi ragazzi e grazie ai nostri partner che sono comunque partner importanti del progetto, penso al Tari, penso a Socoral insieme naturalmente anche al Comune, avremo i docenti a disposizione per i ragazzi per iniziare prima la parte pratica e poi coinvolgendo tutte le botteghe, tutti gli operatori del territorio porteranno avanti anche una parte on the job direi proprio pratica per entrare proprio nel vivo della lavorazione del Corallo. La nostra storia per quanto riguarda il Corallo è oltre centenaria e quindi questa possibilità che ci viene data da parte della Regione di far sì che i giovani si avvicinano alla lavorazione di questa nostra realtà è fondamentale, importantissima. Quindi ringrazio il Presidente Luca, ringrazio la Regione, ringrazio la Consigliera Rai che praticamente ha voluto che questo protocollo fosse firmato stamattina qui a Torre del Greco e diamo la possibilità a tanti giovani di avvicinare a quella che è la nostra storia. Questo progetto nasce da una collaborazione con la Regione Campania, ci è stato chiesto di mettere a disposizione la nostra expertise per realizzare un corso di alta professionalità sul Corallo e sul Cameo. Per fare questo abbiamo chiesto a chi ha a che fare con i ragazzi, chi forma i ragazzi e quindi all'Istituto Degni, quindi ex Istituto d'Arte, quale percorso si potrebbe realizzare al fine di valorizzare il lavoro dei ragazzi e quindi proseguire. E quindi ci è stato suggerito di implementare una serie di percorsi formativi volti al mondo della gioielleria, quindi tutto quello che riguarda la progettazione, tutto quello che riguarda la gemologia, quindi diamanti e pietre sintetiche, per far sì che questi ragazzi possano avere un'infarinatura del mondo della gioielleria che poi è il mondo che li contraddistingue, oltre ovviamente a potenziare una serie di ore molto inconsistenti per quanto riguarda la lavorazione del Corallo e del Cameo. Grazie a tutti.